Con un video sulle note del suo brano Cammino, oggi Adriano Celentano torna sui social e affronta la vicenda di Mimmo Lucano in un posto intitolato Ingiustizia è fatta. In apertura del video un testo, il senso profondo della disputa tra Creonte e Antigone, si legge in una citazione di Giancarlo Caselli sul fatto quotidiano, sta nella necessità di conciliare le leggi umane e divine che, oggi come oggi, diremmo i diritti insopprimibili legati alla dignità, ai sentimenti e alle radici culturali dell'individuo con le esigenze dello Stato. Ciò significa che il magistrato deve interpretare il suo ruolo, sì, della legge, ma nella prospettiva più ampia e profonda della giustizia. Poi la clip continua con le parole di Celentano, tutto questo è lip, prima che i giudici fermassero il battito di un cuore che animava la sacralità dell'accoglienza, è incredibile come noi mortali viviamo questi brevi attimi di vita sulla terra, senza minimamente pensare alle grandiosità che possiamo perdere dopo la morte.